Noi in Lombardia e in Veneto invece stiamo chiedendo un'altra cosa, stiamo chiedendo un'autonomia che è prevista dalla Costituzione. E utilizzate lo strumento del referendum per sensibilizzare il governo? Per dare al Presidente di Regione Lombardia, che si chiami Roberto Maroni adesso, ma che può essere il futuro Presidente di Regione Lombardia, che può essere Maroni o chi vincerà le elezioni in primavera, dargli uno strumento maggiore che è uno strumento di popolo, che vuol dire non è solamente un atto politico, come stiamo parlando adesso della legge elettorale, non è solamente un atto politico tra politici, vogliamo che sia il popolo, la gente di Lombardia e la gente del Veneto che daranno ai propri governanti una marcia in più per poter andare giù a Roma e trattare con Roma.